Terza e ultima tappa di Marche Europa, un bilancio di questa iniziativa? A me pare dai risultati di critica di pubblico un risultato positivo perché lo hanno detto il Presidente del Consiglio, Mastro Vincenzo, il Presidente Ceriscioli, lo diciamo anche noi, c'è stato un felice incontro tra un'istituzione che si interroga sui problemi del futuro in Italia e in Europa e un istituto come il nostro di ricerca e di formazione che ha accompagnato le istituzioni nelle riflessioni su questi temi. Mi pare che la platea degli interventori sia sempre stata di altissimo livello e anche i documenti lasciati abbiano costituito un arricchimento al dibattito politico, economico ed istituzionale. È un ruolo che il nostro istituto ambisce ad avere e anche a sviluppare nel futuro.